Però era, cioè, ma per me era tutto un meme questo, perché si vedeva ben... Hai presente quando c'è il telefono nella tasca e sopra il telefono ti si schiaccia fortissimo qualcosa tenuto attaccato, appiccicato dalla... dalla tasca? Normi, grazie come per il Prime, fratello. Normi, grazie di cuore. Ed è come, cioè, io la tasca praticamente non è che ce l'avevo così, ma ce l'avevo tipo un cazzone che usciva fuori, tipo così. Cioè, era palesissimo che c'erano i suoi crackers lì dentro. Era troppo palese che c'erano i suoi crackers qui dentro. Era ridicolo quanto era grossa la mia coscia. E sapete cosa ho fatto? Ho tirato... mentre gli dicevo, Fra, ma come ti permetti tutte queste cose qua? Ho tirato fuori il pacchetto di crackers, l'ho messo sul banco e l'ho distrutto con un pugno fortissimo! Un pugno fortissimo! Gli ho distrutto tutti i crackers, si erano polverizzati! Briciole!